benvenuti in un nuovo video di quadricottero news oggi 25 aprile sono contentissimo perché contestualmente al lancio del nuovo dji mavic 3 pro dji ha rilasciato una serie di aggiornamenti che hanno reso compatibili i dji google 2 e gli integra anche con il mini 3 pro oltre che con i droni della linea mavic quindi mavic 3 classic mavic 3 e mavic 3 pro adesso i visori funzionano anche sul mini 3 pro e sono stra felice e adesso li proviamo subito naturalmente è necessario aggiornare tutti i firmware quello del mini 3 pro è la versione 0 1 0 0 0 600 ed è necessario aggiornare anche l'app dji fly alla versione v 1.10 precedenza eravamo alla 1.9.9 si pensava se scattasse alla versione 2 e invece siamo alla versione 1.10 comunque questo aggiornamento fa in modo che adesso il mini 3 pro si possa usare con i goggles 2 con gli integra e con l'rc motion 2 e allora eccoci qua io ho aggiornato già tutto naturalmente anche il firmware del google 2 vado a verificare se effettivamente l'aggiornamento è stato recepito l'app in effetti è la 1.10.0 la dji fly mentre il firmware è lo 0 1 0 0 600 il drone è collegato e connesso al radiocomando in questo caso sto usando l'rc n1 e quindi vediamo cosa devo fare per collegare i visori se noi andiamo nella schermata principale vediamo che c'è una nuova voce sopra vola e cioè connetti quando si preme esce una schermata che ci dice che dobbiamo collegare lo smartphone al visore quindi scollego lo smartphone dal radiocomando lasciando tutto acceso quindi drone collegato ancora con il radiocomando e accendo il visore ed ecco che nel menu del google 2 vediamo le nuove voci di collegamento dji mini 3 pro dji mavic 3 mavic 3 classiche e mavic 3 pro naturalmente c'è anche avata le air unit vecchie le air unit o3 e il dji fpv drone assolutamente fantastico non vedevo l'ora allora collego seguo quanto mi è stato detto quindi collego lo smartphone al visore al visore in questo momento è ancora tutto collegato drone e radiocomando collego lo smartphone al visore con la dji fly come è stato indicato in precedenza secondo quanto abbiamo visto sul menu per ora funziona con la versione mini 3 pro e non con il mini 3 peccato comunque è già tanta roba quindi collego lo smartphone vediamo cosa succede mi chiede di attivare la dji fly lo faccio vediamo cosa accade mi chiede di collegare a questo punto collego il mini 3 pro fa un piccolo aggiornamento firmware in questo momento ho lo smartphone collegato con il visore e sto provando a fare il collegamento del visore con il drone il radiocomando è già collegato quindi adesso fa la ricerca del drone naturalmente non lo trovo quindi devo fare il binding e si procede come al solito quindi premo sul tasto sulla scritta dello smartphone 4 secondi tengo premuto 4 secondi il tasto di accensione con drone che già era acceso vediamo che mi propone il dji rc motion 2 devo fare il binding con il motion 2 ma io non ce l'ho e quindi voglio usarlo con il radiocomando il radiocomando è già collegato e allora vediamo cosa succede succede che adesso i google sono collegati con il drone il drone è collegato al coro del comando è tutto collegato se andiamo a vedere abbiamo il video di ritorno del drone nel visore purtroppo però vediamo una brutta sorpresa una grande delusione funziona soltanto con il motion 2 cioè con il motion 2 rc motion 2 non funziona con i radiocomandi e questa una grande delusione per me perché usare questo drone ma anche il mavic 3 ho scoperto che è compatibile però funziona con il dji rc motion 2 quello nuovo col grilletto nemmeno con il motion 1 ma solo con il motion 2 e questa è una grandissima delusione perché il radiocomando è collegato perché dji non mi fai usare il radiocomando con il visore tra l'altro vediamo che è collegato perché se io muovo il gimbal con la ghiera vedete che si muove cioè perché non mi fai pilotare questo drone e il mavic 3 con il radiocomando e con i visori perché provo nuovamente a farlo decollare ma ho già provato prima non decolla vedete non si muove nei motori ma il radiocomando è collegato vedete switch anche le modalità sport normale perché dji non me lo fai pilotare con il radiocomando è incredibile questa cosa funziona soltanto con l rc motion 2 non con questo con la nuova versione sono talmente deluso che finisco qua il video dji fa in modo che possiamo utilizzare questi droni con il radiocomando e con i visori altrimenti ha poco senso ciao a tutti e buona continuazione